Due persone, 250 serate, 120 puntate, 100.000 foto, 3.000 mi piace, un'unica passione, il canto, karaoke tv. Noi abbiamo fatto 300 serate, 300, siamo stati più o meno in 22-23 locali, abbiamo fatto 6 piazze e abbiamo iniziato nel 2011. Non scrivete sui giornali che a Roma il karaoke in tv manca da 22 anni, perché in realtà non manca da 22 anni. Noi l'anno scorso qui abbiamo fatto una finale con ospiti anche conosciuti a livello nazionale, abbiamo avuto tantissimi ospiti e vi posso dire che hanno partecipato come concorrenti quasi 1.200 persone. Quindi come concorrenti, in giro per i locali e per tutto quanto. Abbiamo quasi 3.000 mi piace, quindi se siamo tornati è anche grazie a voi. Grazie e iniziamo con la seconda finale di karaoke tv al pizza live, grazie a tutti. Amici karaoke tv siamo arrivati veramente alla fine, grazie al pizza live, grazie Simona. Grazie a voi. Grazie Fabio per il regalo, è stata una serata davvero divertente, mi sono commosso, sono venuto apposta dalla Puglia per farla, sono veramente felice, ci siamo divertiti. Il bello è anche vedere persone vere, niente di costruito, tutto reale. Una sola persona ha vinto, 40 partecipanti, vince la serata! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!